ma dove stiamo andando esattamente che sto solo seguendo la macchina davanti che cosa ti fa pensare che sia una buona idea dovrei andare secondo te smettetela di litigare per il momento almeno siamo sfuggiti al che dici quello non era un game e se continuassimo a scappare quel game è impossibile da vincere potrebbe funzionare abbiamo molti giorni rimasti sul visto hai ragione aspettiamo che qualcuno vinca mentre noi scappiamo ma che cazzo tempo rimanente sei minuti i nostri amici moriranno ariso forza è l'unico modo per salvarti muoviti non posso vuoi davvero farci uccidere tutti devi sbrigarti fidati dai pariso forza Aaaaaaah! Picche... Quadri... Quadri... Picche... Quadri... Grazie. Tra tutti voi siete gli unici di cui posso fidarmi. Ora dichiarate il vostro simbolo. Quadri... Picche... Picche... есpera... Picche... 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 Resta solo un punto Se sbaglio un'altra volta morirò La mia formula dovrà essere perfetta Che faccio? Non ne ho idea Non posso usare di nuovo la stessa strategia Non commetterò un altro errore Se perdo di nuovo per me è finita Da un punto di vista razionale Il numero dovrebbe diventare più basso Sono sicuro che avrà previsto questo ragionamento Il decimo round è terminato Il vincitore è il signor Kuzurio Ci sono giocatori che hanno raggiunto Meno dieci punti Ma cosa fate? Oh già Mi ero scordato di te Usagi! Fermati! Lei non c'entra con questa storia! Ogni game ha bisogno di un'eroina Movimentano le cose Che diavolo dici? Quando te ne sarai andata Noi tre potremo tornare a essere tutti uguali Io Non sarò più solo Noi tre potremo tornare a essere tutti uguali Te lo sto chiedendo per l'ultima volta Confermi Di volerti ritirare dal game Prendi queste pillole Così ti calmerai Avanti Dopodiché Mi darai una risposta Ciao! Grazie a tutti.